Colazione del primo giorno Pane, avocado e due uova Il traffico è come in Inghilterra Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo andare a sinistra Ah che profumo di natura che c'è Verde, di verde, di erba appena tagliata Molto curato in questo posto, guardate che roba Guardate che bello Stile olandese Colonialismo olandese A sinistra Dove vai? Intendiamo andare a destra Sono le 10 e mezza Stiamo andando verso i trail di Stellenbosch Ci sono parecchi qua Allo Jonkensuch Tutti i nomi un po' olandesi E qua, ieri abbiamo mancato Nibali per un pelo E' andato a cena a due ristoranti avanti a noi La scimmia La scimmia Non è che ti saltano addosso? La scimmie C'è una scimmia lì E ciao Cristo santo La scimmia C'è una scimmia Oh, dobbiamo stare di qua sulla strada? Sì E' un casino qui Sembra di essere nel paese Le meraviglie Le macchine vanno a dare la parte opposta Scimmie in mezzo alla strada Ma com'è? C'è Ma la scimmia è in mezzo alla strada? Non sapevo come comportarti Ho fatto i video sui cani Ma quello sulle scimmie non è ancora pubblicato Devo ancora studiare? Ecco Come proteggersi dall'attacco delle scimmie? Siamo arrivati Al campo di allenamento Come vedete ci sono già dei ciclisti in attesa Ma si deve pagare Si paga il pedaggio No, è anche giusto Devono mantenere i trail Quindi paghiamo più che volentieri Allora Vedete i trail di tutti di verde Giallo Blu, rosso, nero Come potete vedere Anche qua abbiamo delle stall Team stall Anche loro parteciperanno alla Cape Epic Insomma abbiamo scambiato due parole con quei tipi lì Hanno fatto Uno cinque volte L'altro sei volte la Swiss Epic Quelli ci petti Quelli ci pettirono i capelli In gara E comunque quello lì ha detto che Ha fatto due Epic Non ne ha portato a casa neanche una Quella della store In verità la prima è arrivato qua E poi l'hanno cancellato per il Covid È vero Quindi Vediamo proprio che faccia La seconda si è rotto il braccio La prima tappa Quindi Ragazzi Come potete vedere qua Le sorprese sono dietro l'angolo Dobbiamo fare sempre attenzione Allora Dobbiamo andare Sull'Aerysh Il blu E poi scendiamo Dall'Armageddon Il rosso 3, 2, 1 Ci siamo già persi Boom 300 metri Abbiamo già perso il percorso Avremmo dovuto essere Di là A fare l'Armageddon Invece siamo Completamente Da una parte opposta Alla destra della valle Quindi prevedo che si vada sopra A destra Torniamo indietro Vogliamo assolutamente fare L'Irish E l'Armageddon Che sono là Eccolo qua L'abbiamo trovato L'Irish Trail Ci sono 22 gradi Per fortuna non c'è il sole Temperatura è ideale In forma l'amica In forma si vede Comunque sono trail Dove devi stare concentrato A mille Essere proprio a fuoco Prevedere dove mettere la ruota Prevedere dove Spingere di potenza Dove riprendersi un attimino Quindi non danno trego A questi trail Sale eh Sembra piatto ma sale Terreno piuttosto duro Come conformazione Poi Guarda Al tornatino si rilancia Bell'è lo scenario Comunque Vedete tutti i trail percorribili Sono quelli Adesso l'intenzione è quello Di arrivare all'FC Max Quindi un tratto di breve intensità Fino a quando raggiungo il mio picco Per poi scendere subito Senza tirar troppo 142 143 143 146 146 146 172 172 172 La cosa che mi è mancata di più ragazzi In queste In queste ultime tre settimane Quattro Ho smesso di bere alcol Per purificare un po' il vegato Ed averne di più La cosa che mi è mancata di più Niente alcol e vino Da quattro settimane Mi sa che alla fine è gara Ma attacco la bottiglia No va bene Non so mica l'alcolizzato Però è una birretta ogni tanto Mi piace berla E invece niente Anche nei ristoranti ieri Sempre acqua Acqua liscia Alimentazione sana C'ho una paura di bloccarmi Di non farcela Tutte cose che mi trattengono Dai vizi I vizi noti Spettacolo Spettacolo veramente Nervoso E' nervoso come trail Ci assi radici Però la gamba c'è ragazzi La gamba c'è Ci fanno una pipa La gamba c'è Lo stiamo a sfannar Sto trail Lo stiamo a sfannar Bene Siamo arrivati all'armageddon Terra africana Mamma africa Armageddon Finalmente un trail in discesa Tecnico Micchia Sono questi che ci mancavano Oh c'è Oh c'è Si alza da sella A fare fuori sella Bisogna fare un po' Anche d'attenzione Non sai mai cosa ti aspetta Vincolo a neve Amper La bombazza E' dovuto più Cattivo qua Cosa ci succede qua Cosa ci succede Oh Cosa ci succede Qua Non hai fatto Fermo 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 Ma cosa fa Cosa ci succede Vedo questo pochino qua Faccio il culo un po' Quadrate Però Guarda Sicuramente piacevole Questo trail Oh Che rischio qua Devo caricare Oh Bucco 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 Cosa succede qua C'è un po' Di distacco Oh Oh Si cresce ma I turmi non cambiano Bella 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 Oh no Qui c'è più ritmo Su questo trail In quest'ultima parte Non esagerare Non esagerare Non esagerare Sul veloce mi scappa via Io tiro i freni Io tiro i freni E' arrivato E' arrivato Sono scassato Ma lo credo io Ma sul veloce così Io tiro i freni Ciao Ciao Poca tecnica la mia Sul veloce Ciao 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 impressioni? a parte qualche tratto tecnico siamo stati abbastanza veloci quindi mi è piaciuto anche la confidenza col mezzo direi che è buona assolutamente sì stiamo facendo 20 minuti sulla soglia della via 2 max per vedere quanti vatti di potenza ci siamo a fare di media senza andare fuori giri però stiamo spingendo in salita 11 minuti ancora 6 minuti ancora stiamo cercando di tenere una media sopra i 200 watt ma qua li abbiamo sfondati li abbiamo sfondati di 200 watt sì due minuti ancora due due si vai vai schiaccia schiaccia è un altro passo eh ragazzi qua quest'anno abbiamo un altro passo qui l'amico vola per caso la notte scegliere fino a in scegliere fino a è andata bene più che bene ci siamo bruciati via mezzo muscolo non avevo tanto di più ma così ne avevo ancora ma io sono arrivato a 164 di battiti era una vita che non arrivò a 164 teoria 167 il limite ma negli ultimi mesi faticavo arrivare a 162 bello bello un buon allenamento però adesso direi di metterla in saccoccia di piano piano nella casa dovrebbe scendere comunque sono soddisfatto nel senso sono arrivato su abbastanza al gancio però non proprio poi vedo i numeri abbiamo tenuto un buon ritmo amico mio eravamo sui 230 e 230 260 non riesco a guardare qui e a pedalare è questo è impegnativo comunque sabbia siamo in africa stiamo andando in bici siamo a 8 mila chilometri di distanza da casa la temperatura percepita è scesa qui la situazione è decisamente più complicata è obbligatorio fare il portaggio è un mando in questa e demanding qui ce ne sono tanti di tre le tanti ma tanti e noi dove siamo andati a finire su questo qua che doveva camminati sopra ma per la madoncina sempre così sempre così comunque stiamo raidando in africa ragazzi la terra africana terra rossa guardate che roba terra rossa qua si usa salutare tra mountain biker e quelli che incrociamo salutano come i motociclisti che bello stavamo percorrendo la strada quando abbiamo visto un bike wash marchi saiti spedestria thank you ma pensate cosa c'è qui e si può mangiare ma dico io che posto è il resto eh tiravano anche la bicicletta per 2 euro neanche un euro e mezzo tranquillità che pace bellissimo bellissimo abbiamo preso anche due bombolette co2 perché noi avevamo sicuramente si potevano trasportare sull'aereo e quale abbiamo trovato c'è uno scaffale pieno di accessori per biciclette poi devo scappare pieno di accessori per biciclette e poi si può comprare diversa roba ciao piet dove vogliamo andare a mangiare stasera guarda caso qui c'è The Fat Butcher The Fat Butcher ti ispira? un nuovo programma? eh che vuol dire il macellaio grasso esatto o il macellaio del grasso non lo so il macellaio del grasso andiamo dal Fat Butcher c'è la tibon da un chilo e mezzo no da un chilo e due tu c'è a setecento la vedi guarda no? Kurt? hallo? Gius? hallo Sam? hallo? oi? Kurt? mi ricordi? mi ricordi? in Finale? no no in Finale in Massa Maritima Massa Maritima how are you? good and you? where is Nino? Nino is in the flat really? yeah relaxing and you? how are you doing? we go now to eat and yeah we have no stress but a lot to do and you? you make the race? yeah yeah he is another man he is fitter than the last time compared to last year yeah you sleep in the camper? no no in the bed and breakfast oh yeah we have good hey then you see us? I hope good luck thank you see you in a few days yeah ma 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 vi rendete conto? noi dobbiamo gareggiare con tutta questa roba in pancia ma come speriamo di c****** la fuori prima della gara Ciao Ciao Buongiorno Buongiorno